Medion, un brand che pochi di voi conosceranno ma che in realtà da un anno a questa parte lo si trova sia su Amazon e anche nei negozi fisici. Prima di parlarvi di questo eRazer B630 voglio fare una precisazione sul brand perché questo portatile in realtà è un clevo, ovvero di un'azienda OM. Medion come interviene? Sceglie tutte le specifiche tecniche, quindi CPU, GPU, RAM, SSD, risoluzione del display, anche il case, anche la scocca e poi inserisce il suo logo. Quindi ragazzi un portatile che si presenta davvero molto interessante, iniziamo! Inizio parlandovi del design, di come è costruito, lui è totalmente in plastica ma per un motivo molto semplice, ovvero che pur essendo un 17.3 pollici pesa 2,2 kg, quindi mantiene il concetto di portatilità. Ora con la plastica ci sono le solite perplessità, le oscillazioni, il fatto che la scocca non sia assemblata bene. Beh qui vi posso dire che tutto è veramente rigido, non ci sono scricchioli. Lo schermo flette, ma in realtà non eccessivamente flette come quelli che hanno l'alluminio leggero, non chiaramente come quello del Mac che hanno anche il vetro che rende tutto immobile, però devo dire che tutto sommato è robusto. Forse l'aspetto che meno mi convince è la cerniera perché se vado ad applicare una certa forza la vedete oscillare, però veramente quando si va a digitare sulla tastiera veramente non c'è il minimo problema. L'aspetto che più mi è piaciuto a livello costruttivo riguarda la tastiera, non solo per questi tasti quadrati senza smussatura, molto aggressivi, molto da gamer, ma per la corsa che è alta, quindi ottimo per videogiocare, ma ancora di più per il fondo corsa. Quando arrivo alla fine con una certa pressione, sul cui portateli abbiamo sempre questa flessione, questa ammortizzazione, qui invece si arriva veramente su del cemento armato e non si muove minimamente nulla. Per quanto riguarda il touchpad riconosce bene le gestures di Windows, abbiamo poi la possibilità con un doppio tap in alto a destra di attivare o disabilitare il riconoscimento del touch. L'unica cosa che mi è piaciuta poco è il tasto destro, bisogna andare troppo in estremità, fare una certa pressione e insomma non è così comodo. La webcam arriva a 1080p a 30 frame per secondo, ottimo risultato. Cosa interessante abbiamo Windows Hello, quindi con il riconoscimento IR noi possiamo semplicemente sbloccare il portatile guardandolo. A fianco al tasto power c'è un secondo tasto che si occupa della gestione energetica. In questo momento non ha una luce attiva e significa che è in modalità risparmio energetico, chiamata Office, ma premendo una volta si illumina e passa alla modalità Gaming. Premendo una seconda volta si illumina ancora di più e passa alla modalità Turbo. Il display è un 2K opaco, quindi gestisce bene i riflessi. Ha un refresh rate di 165 Hz, quindi ottimo per videogiocare. Tra l'altro, cosa interessante, ha una copertura sRGB del 100%, quindi se volete anche lavorare con foto e video potrete farlo senza troppi problemi. I colori sono buoni, sono vividi, anche la gestione del nero non è affatto male considerando che è un portatile da gaming. La luminosità non spicca, non brilla, però insomma assolutamente idonea per un ambiente domestico. A livello di porta abbiamo la classica USB, doppio jack per microfono e cuffie, chiaramente per i videogiocatori. Dall'altro lato altre due porte USB a micro SD, mentre dietro abbiamo porta USB-C, HDMI, Ethernet e alimentazione. Come avrete visto abbiamo solo una USB-C e questo forse è un po' un peccato. Ora parliamo di prestazioni. Lui ha a bordo l'i7-12700H, un 14 core 20 thread con un TDP di 45 Watt. Ok, ho appena finito con i benchmark e i risultati sono veramente incredibili. Innanzitutto valori PL1 e PL2 di 140 Watt, veramente incredibile considerando lo spessore della macchina. Altra cosa interessante è che in tutto il tempo di rendering la CPU è sempre stata attorno ai 3 GHz. Tenete conto che il clock base in queste situazioni dovrebbe essere attorno ai 2 e 3, quindi veramente niente male. Le temperature arrivano a 98-99 gradi che sono assolutamente in linea con tutti i portatili da gaming sotto stress, ma la cosa interessante è che non va in thermal throttling, quindi resta sempre costante nelle sue prestazioni per tutto il tempo necessario. E questa è un'ottima notizia. L'aspetto negativo è che il calore si percepisce sulla tastiera e alla lunga risulta essere un pochino fastidioso. Ma a livello di prestazioni veramente una gran macchina. Anche lato GPU, la 3070 Ti con un TDP di 150 Watt ha permesso in game dei risultati veramente importanti. Fortnite 2K, tutti i settaggi ad ultra, arriviamo in media attorno agli 80 FPS. Tutto ad ultra, ragazzi, quindi veramente un risultato molto interessante. GTA 5, 2K, tutto ultra, siamo sui 60 FPS di media e non è affatto male. Battlefield 5, anche qui 2K, tutto settato ad ultra, abbondantemente sopra i 90 FPS. Risultati, ragazzi, veramente sbalorditivi. E adesso parliamo dell'autonomia. E qui sono rimasto veramente sorpreso perché sappiamo che i processori di dodicesima generazione, in questo caso l'i7, è riuscito a mantenere il TDP di 45 Watt, come quello dello scorso anno, aumentando però le prestazioni. Il tutto poi abbinato da una batteria da 91 Watt ora mi ha permesso di ottenere dei risultati veramente incredibili. Con riproduzione continua su YouTube con schermo al 100% di luminosità, sono arrivato a sfiorare le 5 ore di utilizzo, davvero niente male. Il tutto cambia, chiaramente, quando interviene la GPU dedicata alla 3070 Ti. Nel gaming, nel rendering, non si superano le 2 ore. Per sfruttare tutta questa potenza serve un alimentatore adeguato. Eccolo qua, da 300 Watt è veramente enorme e il cavo, guardate quanto è spesso. In definitiva, cosa dire di questo iRaze Beast X30? Sicuramente un portatile perfetto per chi vuole videogiocare. Videogiocare bene perché lo schermo è 2K e l'hardware permette di giocare in 2K. Spesso vediamo portatili con schermo 4K, 240 Hz e poi magari la 3060. Insomma, è poco coerente quell'hardware. Qui invece c'è un buon equilibrio. Il prezzo è a partire dai 2399€, poi cambia in base alla disponibilità e direi che è adeguato all'hardware. Ragazzi, fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate. Noi ci vediamo in un prossimo video. Noi ci vediamo in un prossimo video.